Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Sinisa Mijailovic. La cerimonia funebre è in programma a partire dalle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Piazza della Repubblica. Sono attese numerose personalità, saranno possibili chiusure al traffico, deviazioni per le linee bus della zona. Viabilità in città in via di Monti Tiburtini, all'altezza di via Giulio Curioni, permane il restringimento di carreggiata in direzione della tangenziale. Forti ripercussioni per la viabilità della zona, il restringimento, lo ricordiamo, è dovuto al danneggiamento del manto stradale.